Buone notizie dal fronte rifiuti. Da oggi, 23 maggio, Acrea potrà tornare a conferire i rifiuti a Ponticelli. Questo significa che già a partire da oggi e per tutta la prossima settimana, gli operatori di Acrea saranno impegnati a rimuovere i cumuli di spazzatura ammassati lungo le vie cittadine. La ripresa dell'attività di conferimento è stata resa possibile in forza dell'ordinanza regionale per superare la fase emergenziale. La disposizione della regione autorizza la società Ecro, gestione dell'impianto di selezione di Ponticelli, ad effettuare i conferimenti degli scarti di produzione dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Columbra. Tempi e modalità di conferimento saranno concordati dal lato, dalla provincia di Crotone e la società Sovreco, gestore della discarica.